Come è nata la collaborazione con Omitalia e quali sono i punti di forza del progetto che lei andrà sicuramente a rafforzare con il suo lavoro? Tanto gentile e generosa in questo augurio che apprezziamo moltissimo. In realtà siamo partiti sicuramente da una complementarietà, la forza della testata nel mondo dell'arredo e del design e la nostra esperienza più legata storicamente al mondo del fashion e della moda. Abbiamo ritenuto che queste due storie potessero stare bene insieme e proprio oggi festeggiamo l'inizio di questa collaborazione sulla quale abbiamo grandi ottimismo e perché riteniamo che un media come Om così fortemente rivolto alla internazionalizzazione dei brand italiani nel mondo sia di grande attualità in un momento in cui il mercato domestico naturalmente ha l'affaticamento che conosciamo. Quindi qual è il suo progetto nei confronti di Omitalia? Cosa andrà a fare per questo network? Allora diciamo che il progetto è quello di da un lato industrializzare la presenza sul territorio. Il giornale è una raffinatissima boutique club come lo definiscono gli editori correttamente. Probabilmente aveva la necessità di avere una presenza sul territorio più articolata che consentisse di presidiare non solo i distretti tradizionali dell'arredo ma tutto il mercato. L'altro sviluppo, l'altra ambizione condivisa è quella di enfatizzare anche tutte quelle attività estranee alle esclusive pagine del giornale e che quindi si rappresentano sia nel mondo digitale ma anche in serate come queste la cui penetrazione della testata può essere di grandissima utilità per i brand che possono così creare delle relazioni non solo sociali ma anche di business. Quindi il lancio del nuovo network, del nuovo club di Omitalia parte da Milano. Milano perché? Beh Milano credo che sia una scelta obbligata in questo mondo. Forse ancora più che nella moda, nel design, col fenomeno straordinario sempre forte, crescente del salone è diventata una capitale internazionale e quindi chi vuole dialogare con il mondo non può che partire da questa città. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Grazie.